Benvenuti su TG7 Basilicata. La Task Force regionale comunica che nei giorni 24, 25, 26 e 27 dicembre sono stati processati 1.284 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 127 e fra questi 116 residenti in Basilicata sono risultati positivi. Nelle stesse giornate sono state registrate 133 guarigioni, inoltre risultano decedute 12 persone, 11 residenti in Basilicata e una non residente. Un residente ad Abriola, uno ad Anzi, uno a Cancellara, uno a Castelluccio inferiore, uno a Picerno, due a Potenza, uno a Rionero in Vulture, uno a Sanfele, uno a Senise, uno a Tursi, un residente in Puglia.